Un monte odorissimo, sei del mattino e non è nebbia, è la discarica di cupello che brucia. La terza vasca del Civeta, gestita dalla Cupello Ambiente, continua a bruciare. Il vasto incendio partito ieri sera sta consumando l'immondizia non coperta dal terreno. Stamattina tutto il territorio del Vastese si è svegliato con un forte odore di immondizia bruciata. Sulle origini del quinto incendio in due anni, il commissario Valerio De Vincentis non ha dubbi e parla di autocombustione. Le prime avvisaglie ci sono state venerdì con del fumo. Gli operatori della Cupello Ambiente hanno già avvisato i vigili del fuoco che hanno consigliato loro su come agire. Secondo quanto detto dal commissario, nel recente passato il Civeta avrebbe presentato diffide ed esposti sulla terza vasca affinché venissero adottate tutte le misure per evitare nuovi incendi. Il via libera, la copertura con terreno vegetale da parte della Procura della Repubblica di Vasto, sarebbe arrivato il 10 ottobre scorso. Ieri, la presenza 24 ore su 24 del guardiano, a quanto pare non ha evitato che l'incendio si propagasse in pochissimo tempo. Il sindaco di Monteodrisio, Katia Di Fabio, ha invitato la cittadinanza a ristare a casa. Si valuta chiusura delle scuole, sul posto anche i tecnici dell'Arta che hanno effettuato controlli e rilievi. Alla cittadinanza è stato consigliato, in via precauzionale, di tenere chiuse porte e finestre e di rimanere in casa.